ben ritrovati e ben ritrovati il giorno dopo le motivazioni questo è un argomento che mi sono tenuto lì per la giornata di oggi perché volevo approfondirlo leggendo articoli e sentendo persone che ne sono assecchiate più di me e in generale volevo anche testare la pancia del tifoso e quindi ciao Lellone ciao ciao a tutti ciao a tutti mi raccomando le linee guida sono sempre le solite però seguite Lellone già lo fate perché chi segue il mondo Juve qua sul tubo passa anche inevitabilmente dagli ottimi contenuti di Lello ti chiedo caro colpo gobbo i giorni dopo queste motivazioni perché c'è un clima diciamo tendente alla forte negatività per quanto concerne almeno l'esterno nel mondo bianconero e quindi volevo sapere anche la tua dopo quanto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio io guarda credo che la cosa giusta da fare per capire un po' in che direzione si sta andando credo che bisogna misurare quello che è il termometro mediatico in base alle notizie che girano legate alla Juventus perché non si sono mai discostate poi di tanto sulla realtà dei fatti e sull'esito delle sentenze stesse in questo momento c'è aria di eventuale patteggiamento con con la FIGC anche per il secondo filone c'è questa roba qua che sta uscendo dal punto di vista mediatico io non riesco più a parlare in punto di diritto perché tanti esperti hanno parlato e sono stati contraddetti per cui è inutile fare quei tipi di ragionamenti perché poi dopo sulla carta non si non si rivelano mai ecco anche lo stesso Matera che ha scritto il codice di giustizia sportiva ha espresso perplessità su tutta questa sentenza sul fatto che dovesse essere annullata e abbiamo visto invece poi come sono date le cose io la cosa che vedo è che il rischio è di un anno senza la Champions per la Juventus che è la cosa che più interessano i tifosi che ci sarà un patteggiamento per i filoni stipendi e che ci sarà invece una pena afflittiva che poi è stato anche cambiato il termine perché l'afflittività riguarda la stagione in corso e non l'obiettivo insomma della penalizzazione dei punti stessi ma dettagli però mi pare che si vada in questa direzione cioè tutti i giornali sono allineati in questa direzione io faccio fatica a tirarmi indietro visto un po' l'andazzo di precedente sì diciamo che hai toccato un argomento giustissimo ovvero noi abbiamo anche ospitato tanti esperti che parlano anche il burocratese mettiamola così ok in generale conoscono alla perfezione questo genere di materia e non è che loro siano dalla parte del torto perché loro hanno un'estrazione hanno messo dei dati importanti sotto gli occhi hanno effettuato delle analisi credibili e spendibili però anche a me ha sorpreso molto ieri come anche dei professori gente illuminata da questo punto di vista e si è rimasta colpita dalla durezza di queste motivazioni che portano a un quadro ancora abbastanza astratto ma che si avvicina comunque a qualcosa di estremamente negativo per la Juve perché oggi poi i titoloni erano tutti su questa esclusione ipotetica dalle coppe che mi sembra il tema più importante quindi diciamoloci una cosa Lello e d'altra parte anche nelle motivazioni nelle pagine finali si vince questo alla fine della fiera ha vinto chi ne? Eh sì ha vinto lui ha vinto lui e con le osserotte la Juventus dal punto di vista insomma della vicenda perdiamo Lello giusto per chi non ha seguito benissimo che praticamente tutti i punti posti dalla Juventus sono stati respinti sì praticamente sì praticamente la Corte di Garanzia del Coni ha motivato nella propria sentenza il fatto che la Corte Federale d'Appello debba riscrivere nuovamente in maniera più chiara quelle che sono le motivazioni che portano a questi 15 punti che in realtà potrebbero essere anche meno e l'hanno lasciato intendere un po' da quello che è stato l'indirizzo però non sono mai entrati nel merito delle vicende anche nella vicenda dello IAS 38 paragrafo 45 eccetera lì non si è mai andati nello specifico perché diciamo che si sono lavati le mani ma giustamente lo sapevamo che era un organo che non entrava nei meriti dei contenuti ma che si soffermava invece alla legittimità della sentenza e di tutto il fattaccio che è successo la guardia federale d'appello nella vecchia sentenza per cui sentenza da riscrivere probabilmente la sanzione sarà inferiore ma quanto basta credo anche per tagliarti fuori dal punto di vista dei punti per la corsa alla Champions League bravo Lello infatti ti voglio dire questo io oggi ho parlato con un po' di persone e diciamo che l'unica mezza notizia che ho da questo punto di vista è che poi la sentenza la nuova sentenza del nuovo processo arriverà a ridosso di Juventus Milan io mi sono fatto un'idea e magari è sbagliata ovviamente ragionando sempre su un quadro ipotetico che lì si ragionerà su quanti punti servono per fare in modo che la Juventus resti fuori dalla Champions ne servono 5 verranno dati 5 punti di penalizzazione ne servono 6 ne servono 7 questa è la mia idea dopodiché c'è il discorso legato ovviamente all'articolo 4 sulla cosiddetta svelata sportiva e là bisogna capire cosa accadrà sul fronte UEFA io sono curioso un po' di capire come l'UEFA agirà anche se anche là non possiamo ragionare mai in punto di diritto perché abbiamo visto che il City ha un'inchiesta in corso e non mi pare che ci sia fretta e celerità da quel punto di vista per andare a capire qualcosa eventualmente sulla questione City e sanzionarlo magari con con la non partecipazione alle coppe non mi pare che ci sia tutta questa fretta c'è invece fretta sul lato nostro per cui anche là ci sono delle disparità ma non possiamo ripeto ragionare in queste situazioni in punto di diritto la verità a Roma è che è chiaro è molto politica è poco diritto cioè il diritto è un strumento per arrivare ad una volontà politica di fare determinate situazioni cioè almeno questo è quello che sento io da tifoso è quello che credo che sentano la maggior parte insomma dei ragazzi che ci stanno ascoltando c'è una volontà politica di arrivare a queste situazioni qua e basta poi il perché non c'è dato saperlo possiamo ipotizzare mille questioni ma credo che chiunque oggi guardando tutto quello che è successo faccia fatica a mettere un quadro logico della situazione ti faccio l'ultima domanda su questo filone o meglio non proprio lo stipendi ma su questo tema e poi magari ci soffermiamo sulle dichiarazioni freschissime regione Elkan proprio su Giuntoli e su quanto è accaduto anche la curva dell'Atalanta sul fronte Dujan Vlaovic ora ovviamente abbiamo capito verso quale direzione si sta andando per il caso plus valenza con la nuova penalizzazione inferiore ai 15 punti nei confronti a Juventus però si apre l'altro scenario quello dei filoni stipendi e quindi io ti chiedo secondo te la Juve intraprenderà concretamente l'idea del patteggiamento perché con diciamo il patteggiamento ci sarebbe ovviamente una maximulta ma una penalizzazione inferiore ecco ma io credo che se c'è questa situazione visto che si è stato un po' come è andato quello il filone delle plus valenze che doveva essere sai quello un po' più morbido quello un po' più tranquillo io credo che la Juventus opterà per questa situazione e credo che questo secondo me eviti anche delle sanzioni ulteriori magari dall'UEFA stesso quello che ci dicono in questo momento i quotidiani per cui se questo scenario è credibile fattibile credo che la Juventus lo vaglierà e sicuramente opterà per questa per questa soluzione per cui quando mi dicono patteggiamento ma la Juve deve combattere ma ragazzi non si combatte nel multineamento si combatte nella giustizia ordinaria e anche quella lascia strascichi perché lascia strascichi ma in una giustizia sportiva così tanto illogica anche per gli addetti ai lavori che vengono contraddetti non ragazzi che ci andiamo vicino e c'è qualche dettaglio che ci sfugge vengono completamente contraddetti si fa fatica secondo me a ragionare su una strategia difensiva solida e uscirne indenne è così è così tra l'altro poi la preoccupazione più grossa è adesso capire se anche il timing perché a livello di tempistiche è difficilissimo immaginare che tra un filone e l'altro la Juventus possa venirne a capo solamente in questa stagione cioè nel senso ragionando in funzione di ciò che accadrà da qua a giugno luglio e anche i tempi sono molto indefiniti e rischiano anche di condizionare con la penalizzazione sempre qua ipotetica ma non così mi sembra campata per aria la prossima annata calcistica quindi è una situazione molto complicata anche a livello di programmazione per la Juventus ma mi faccio un assist da solo perché ho citato la parola programmazione inevitabilmente sale in cattedra la figura di Cristiano Giuntoli io ti leggo le dichiarazioni oggi di John Elkan la DDXHor che era a Napoli per una iniziativa benefica organizzata dalla fondazione Agnelli gli sono chiesto ma Giuntoli allora è già la consigliere della Juve ha tante scelte ha risposto Elkan ha tante possibilità sceglierà lui quindi prima di certi la palla la mia interpretazione è molto chiara la Juve ha scelto Giuntoli l'obiettivo numero A però aspetta che tra l'altro oggi il sempre ottimo informato Antonio Giordano del Corriere dello Sport vicinissimo uno dei decani del giornalismo partenopeo scrive attenzione perché Giuntoli può andare tranquillamente alla Juve però ci sono anche altre proposte ci sono altre quindi non è che magari c'è il Tottenham di turno ti chiedo io Lello che sta facendo vacillare se è soggiuntoli ma secondo me è probabile anche che voglia capire di più anche sulla situazione attuale della Juventus per capire da dove mettere mano eccetera perché la situazione è un po' complicata e anche lo sai bene quando vai ad unirti ad una squadra devi capire quanta struttura puoi portarti dietro o quanta invece devi abbracciare perché è già presente in termini di uomini in termini di risorse in termini di collaboratori perché anche questo credo che sia importante il direttore sportivo credo che abbia voglia intenzione di portarsi due o tre elementi due o tre collaboratori ma se all'interno di quel club ci sono già delle figure così tanto ingombranti bisogna un pochettino risolvere la situazione e Giuntoli sicuramente avrà delle proposte perché tutto ciò che ha fatto al Napoli è straordinario però io credo che la Juve sia voglia e determinazione può portarlo a casa uno come lui e mi fa piacere una cosa ma è caldilla di tutto Calvo disse tempo fa con o senza le coppe la Juventus programmerà la prossima stagione per essere competitiva e questa è una cosa che mi fa estremamente piacere e Giuntoli sarebbe l'evidenza di quanto dichiarato dallo stesso Calvo beh d'altra parte io credo che facendo una mini analisi sullo stesso percorso di Giuntoli sarebbe stimolante andare alla Juve perché dopo otto anni in Napoli ciò che aveva fatto precedentemente tra Gavette e Carpi sai riportare sulla Juve credo che per un manager sia intrigante un po' come quello che ciò che accadde con Marotta che portò al preliminare di Champions alla Sampo e poi iniziò a lavorare prima andata difficilissima a Torino successiva vinse lo Scudetto anche perché poi le scelte furono un po' più azzeccate vedi Antonio Conte e i calciatori però io credo che ecco in molti mi hanno chiesto immagino che lo avranno fatto anche sotto i tuoi video ma non è che questa situazione di incertezza possa portare Giuntoli a fare bautazioni differenti io non credo io penso che se Giuntoli si mette in testa andare alla Juve ci va anche se dovesse esserci una retrocessione estremizzando ma non fai il ragionamento di un anno nel senso fare il ragionamento di tanti anni non è neanche come un allenatore che deve scegliere una squadra che può essere pronta subito per andare in Champions o meno qua si prende uno che deve programmare e anzi vi dirò di più nella testa di un direttore sportivo è molto più facile andare in una squadra che in un momento di estrema difficoltà perché sa che può fare tanti piccoli miglioramenti per avere dei buoni risultati anche lavorativamente parlando e poi cercare di arrivare fino alla fine è molto più complicato secondo me arrivare in corsa in una squadra che è già al top perché è difficile migliorare una squadra che è al top quando invece hai tanto da colmare per un direttore sportivo A è una sfida più avvincente B è molto più facile anche prenderti i meriti di un buon lavoro tra l'altro tu citavi la struttura che potrebbe portarsi dietro Giuntoli e qui proviamo a unire i punti anche in base alle mie informazioni in tanti hanno parlato di Micheli questa figura che tanto bene ha fatto a Napoli responsabile dello scouting scouting manager però da quello che so io questa figura rimarrà a Napoli nel senso che è una persona figlia del lavoro di Aurelio De Laurenti non di Giuntoli poi i due hanno costruito un buon rapporto di coesistenza operativa ha fatto un bel lavoro Micheli però quando lo associamo alla Juve no Micheli resterà a Napoli perché se va via Giuntoli l'idea di Aurelio De Laurenti è responsabilizzare Micheli sempre con il lavoro di scouting con un ruolo magari un po' più importante nelle decisioni significative mettendo un direttore sportivo che potrebbe essere per esempio Accardi che bene sta facendo all'Empoli gli altri nomi sono tutti spendibili perché se Giuntoli dovesse andare alla Juve sicuramente si porterebbe dietro il suo vice Giuseppe Pompilio e poi c'è sempre questa figura che sta in questo momento tenendo banco che si chiama Stefano Stefanelli che non lavora attualmente con Giuntoli al Napoli bensì è il direttore sportivo del Cesena ha lavorato con Giuntoli un anno mi sembra quando era responsabile della primavera del Napoli in passato ha avuto rapporti con lui al Carpi però io credo che questo sia un po' il trittico se vince il partito Giuntoli arrivano Giuntoli Pompilio e Stefanelli in uscita dal Cesena questo è un po' il quadro di piacere beh c'è il fatto che comunque ci sia già un'idea chiara di struttura mi pare evidente che ci siano stati dei mezzi accordi delle mezze chiacchierate anche con la società se emergano anche questi nomi quindi guarda caso poi Stefanelli non rinnova col Cesena guarda caso eh ci sta ci sta no però a me devo essere sincero mi fa piacere Giuntoli perché è un uomo che arriva da un calcio quasi semiprofessionistico e dilettante arrivare a farti le ossa fino a qua è una storia bella da raccontare poi mi dicono che abbia simpatia sulla Juve su questo non so ma sono contento che uno che con il suo percorso arriva alla Juve mi ricorda un po' il mojirampante della situazione che da Napoli arriva arriva a Torino e fa molto molto bene sempre rimanendo più o meno su questo tema ti chiedo cosa ti aspetti per quanto riguarda gli altri dirigenti perché se parliamo di Federico Cherubini Giovanni Manna Matteo Tognozzi sono tutte persone sotto contratto fino al 2024 quindi non scadono questo giugno bensì il prossimo ti dico anche qua le informazioni del mio possesso Cherubini da quanto intuito a prescindere dalla figura che verrà inserita o delle figure che verranno inserite Cherubini è destinata a rimanere quantomeno fino alla scadenza del suo contratto noi ricordiamo che lui è inibito per 16 mesi quindi non può portare avanti delle attività per esempio il mercato però è una figura profondamente rispettata anche a livello umano sia alla continasse sia a Vinovo cosa significa sulle varie squadre dalle under alla prima quindi per Cherubini si prospetta un ritorno all'antico cioè quel ruolo che aveva quando c'era per esempio Fabio Paratici da coordinatore da amministrativo la Juve crede nelle qualità anche umane di questo di questo manager quindi non lo scarica da quello che ho intuito su Mann e Tognozzi bisogna fare un doppio discorso io ho la sensazione che se dovesse arrivare Giuntoli con quindi Stefanelli o i suoi uomini per me Mann andava via perché comunque lui è un direttore sportivo e non ci sarebbe più spazio sostanzialmente e credo che anche ai suoi occhi questo è il mio pensiero sai hai pregustato di poter diventare direttore sportivo della prima squadra lo hai anche fatto sostituendo un pochettino Cherubini è difficile no rimanere in un altro e Tognozzi sono un po' più dubbioso perché anche lui ha fatto un gran lavoro la Juve davvero un grandissimo lavoro perché ora quando parliamo di Iling Junior di Sule di Barencea del percorso di Miretti stesso Ildiz Ildiz Uisen ti parlo anche molti non lo sanno ma Tognozzi è stato lui a fare la trattativa con la Fiorentina per Dujan Vlaovic ed è stato lui a fare in modo che arrivassero a Torino Caio Giorgi e Denis Zaccaria poi non è andata bene ci sono mille variabili anche legate al tecnico comunque il suo lavoro è stato creare valore cioè ora la Juve ha valore con questi ragazzi quindi là io credo che la Juve debba fare una riflessione in più perché non tu c'è da fare un'evoluzione ma non una rivoluzione cioè non ha mai funzionato così bene lo scouting della Juve però magari Tognozzi si potrebbe integrare in questo contesto a meno che lui voglia un po' il discorso di Manna non dica voglio fare un altro tipo di esperienza se c'è la volontà di Tognozzi secondo me Giuntoli sarebbe perfettamente integrabile ma anche perché Lelio qua finisco su Tognozzi chi è stato il primo a lanciare Matteo Tognozzi che non aveva neanche Spalletti 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 con lo Zenith bravissimo se ne che hai letto il mio articolo bravo Luciano Spalletti lancia Matteo Tognozzi Matteo Tognozzi è figlio d'arte il papà è stato uno scout stimatissimo in Italia che ha collaborato per tanti anni con Spalletti il figlio Matteo è cresciuto con la stessa passione del papà seguire sempre partite su partite su partite Spalletti gli ha dato un'opportunità a San Pietroburgo Tognozzi è stato fondamentale nella creazione di un reparto scouting che non c'era allo Zenith voluto proprio da Spalletti quindi sai secondo me Spalletti due o tre belle parole le avrà spese eventualmente con Giuntoli su questa figura che c'è già la Juve fermo restando Lello che poi in quell'ambiente si conoscono tutti quindi Giuntoli sa come lavora Tognozzi Tognozzi sa come lavora Giuntoli però sarebbe bello dal mio punto di vista che si arricchisca questa struttura e che poi non diventi invece il nuovo che vuole a tutti i costi togliersi il vecchio o il vecchio che a tutti i costi con pregiudizio non vuole lavorare con il nuovo no ma che ci sia contaminazione tra i due reparti tra due modi che magari hanno lavorato differentemente che si contaminano nel buono con l'expertise con l'esperienza che si porta dietro col bagaglio di lavoro fatto da Giuntoli che va a contaminare un po' il reparto scouting e lo scouting che dà nuovi input anche al direttore sportivo io credo che possa esserci invece questa collaborazione vediamo poi ripeto sicuramente il fatto che abbia collaborato con Spalletti è una parola detta da Spalletti che adesso è fresco vincitore anche dello scudetto beh è un bel bigliettino da visita e mica male e so già che nei commenti ci sarà scritto ma allora perché dai non arrivare pure Spalletti visto che ha lavorato con Tognozze visto che eh però oh ragazzi io dico sempre nel mercato mai dire mai quindi cose che ci sembravano impossibili come CR7 cappello alla Juve quindi chissà 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 ti congedo con l'ultima domanda è arrivata la decisione di giudice sportiva un turno di chiusura per la curva dell'Atalanta per i corri razzisti nei confronti di Ujan Vlaovic che fotografia fai cosa cosa ne pensi ma io io mi sono già espresso queste sono sono mezzucci che che non servono a nulla eh perché vanno a punire il tifoso buono il tifoso che va a godersi lo spettacolo e mi pare una pena ingiusta un po' come quando il professore metteva la nota tutta la classe perché tre deficienti facciamo un casino per venti eh in questo caso sicuramente il numero di tifosi era era superiore alla alla percentuale che ho dato io degli alunni in classe ma credo che si debba intercettare i singoli bisogna sempre passare adesso alla responsabilità soggettiva e da spare chi non si sa comportare allo stadio perché non è giusto che chi ha pagato un abbonamento chi ha pagato fior fior di denari per un abbonamento debba vedere se la curva eh chiusa non può andare allo stadio eccetera perché eh tanta gente magari ha fatto dei curi contro contro Vlaovic se la trovo una roba una mossa antiquata che non risolve minimamente il problema da quanto esiste questo sistema sanzionatorio e quanto sono cambiate le cose basta sono totalmente d'accordo con te dai mi sembra che abbiamo fatto il punto tra le motivazioni le dichiarazioni le ultime informazioni che abbiamo sul fronte giunto lì no te la faccio una domanda adesso con quale spirito la Juve va a chiudere il campionato quest'anno guarda io ti dico la verità lo raccontavo adesso non mi ricordo in quale live ma dicevo quando per esempio abbiamo restituito momentaneamente i 15 punti alla Juve no dico qualcuno addirittura esultava evidentemente non avete capito evidentemente non abbiamo capito secondo me è spirito zero cioè tu devi fare il tuo per essere a posto con la tua coscienza quando tu torni da lavoro ti guardi davanti allo specchio e dici non ho rubato lo stipendio ho fatto il mio ho onorato la maglia fine poi io te l'ho detta quella è la mia te l'ho detto quella è la mia sensazione che se serviranno 5 punti arriveranno 5 punti di penalizzazione se serviranno 6 6 7 ma infatti io guarda fossi il max in questo momento terrei sicuramente la tensione e la tensione alta ma in vista dell'Europa League cioè ragionerei nella partita di campionato come preparatorie per quel tipo di evento se devo fare ma infatti per quello che io mi sono incazzato come una bestia per la Coppa Italia io mi sono arrabbiato tantissimo per l'atteggiamento della Juve in Coppa Italia perché sul campionato non ho mai fatto affidamento sapendo che è un quadro che muta e che porterà la Juve a essere penalizzata quindi 99 su 100 fuori dalla Champions sperando che poi la Juve ne fa tutto il discorso prima però non capisco come sia possibile con quel tipo di atteggiamento presentarsi per esempio a San Siro ma non solo atteggiamento da parte dei calciatori intendo anche formazione totalmente totalmente sbagliata da parte di Allegri e del suo staff gara sbagliata in tutto e per tutto anche dal punto di vista mentale quindi spero che questo questo nuovo polverone uscito nelle ultime ore stimoli il gruppo squadra allenatore staff e calciatori ad arrivare a Budapest e a dire sai che c'è io comunque un trofeo l'ho vinto automaticamente in teoria dovrei giocare in Champions League o la finale Supercoppa Europea cioè più di questo non so cosa possa fare esatto esatto uguale uguale la pensiamo alla stessa maniera anzi ripeto se devo fare dei ragionamenti per risparmiare forze e lucidità alla squadra devo mettere le terze quarteline metto le terze quarteline e non si parli poi di campionato falsato perché il campionato è già falsato nella corsa ma non per una questione legata a una cattiva condotta delle squadre ma una cattiva gestione di chi dovrebbe fare appunto di chi dovrebbe gestire il torneo stesso e di chi dovrebbe garantire non più un torneo di quartiere ma uno sport dove ci ricalano denari e dove sarebbe maggiore serietà questo enciclopedico grazie Lellone mi raccomando tutti a iscriversi sulla sua pagina facebook no scherzo qua su youtube su canale youtube e niente Lellone dai ci aggiorniamo magari dopo il primo round con il Siviglia perché verrai ci sarai no non ci sono rientro lunedì ma Rome poi partiamo te l'ho detto partiamo mercoledì quindi io rientro lunedì sera faccio una notte a casa praticamente poi la sera subito sai già i orari di i folli che abbiamo scelto follia follia però sarà Siviglia almeno quello questo è questo è grazie Lellone ciao grazie a te Rome